Cos'è successo? Sei scappata da una vita che hai vissuto, da una storia che hai bruciato e ora fingi che non c'è. Cos'è successo? Sei cambiata? Non sei più la stessa cosa o sei ancora quella che è cresciuta insieme a me? Cos'è successo? Sei scappata e conti anche la mia vita, l'ho cercata, l'ho cercata e l'ho provata solo in te. Ma c'è qualcosa di grande tra di noi che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Ma c'è qualcosa di grande tra di noi che non puoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Cos'è successo? Sei caduta? Sei caduta troppo in basso e ora provi a risalire, hai la fatica che non vuoi. Cos'è successo? La fortuna non ti ha mai abbandonata, ma ricordati il destino, non ti guarda in faccia mai. E c'è qualcosa di grande tra di noi che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Adesso cosa fai? Che cosa inventerai? Per toglierti dai guai? Dove andrai? Adesso cosa fai? Che cosa inventerai? Puoi fingere di più? Di come farai? Cos'è successo? La tua luce? La tua luce si è oscurata con qualcuno che conosco e vi ha portata via da me. Cos'è successo? La tua luce si è oscurata con qualcuno che non vuoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Cos'è qualcosa di grande tra di noi che non vuoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Cos'è qualcosa di grande tra di noi che non vuoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Cos'è qualcosa di grande tra di noi che non vuoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Cos'è qualcosa di grande tra di noi che non vuoi scordare mai, nemmeno se lo vuoi. Grazie a tutti